ciao ragazzi bentornati in questo mio nuovo video in varie parti del mondo succedono cose che la scienza tuttora adesso non riesce a spiegare alcuni di questi eventi possono essere spiegati in modo razionale altri invece no in questo breve video ti mostrerò dei filmati che ti faranno capire che a volte anche ciò che non è possibile è possibile prima di cominciare però vorrei ricordarti di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo in una giornata come tante un pedone distratto tenta di attraversare la strada non accorgendosi che proprio in quel momento una macchina sta per investirlo poco prima che quell'auto investa il pedone un uomo si lancia all'improvviso nel tentativo di salvarlo e questo è ciò che succede l'uomo si tuffa per salvare l'altro ragazzo e i due scompaiono all'improvviso teletrasportandosi sul ciglio della strada della parte destra nel prossimo filmato si può notare una donna che si avvicina con le buste della spesa vicino alla sua auto la donna arrivata vicino alla sua auto si china per un attimo nello stesso istante uno strano oggetto gli passa dietro a una velocità incredibile questo secondo me potrebbe essere anche un falso l'ultima parola la lascio a voi nel prossimo filmato si può notare una ragazza che si avvicina ad un'auto ad un certo punto la ragazza estrae un fazzoletto e incomincia ad asciugarsi da al sudore lo stesso fazzoletto cade accidentalmente a terra come si può notare ad un certo punto il fazzoletto si infila sotto la macchina la stessa ragazza tenta di prendere il fazzoletto ma non riuscendo ad arrivare a prendere il fazzoletto la ragazza fa qualcosa di veramente straordinario con una sola mano riesce ad alzare la macchina come se fosse un pezzo di carta dopo di ciò va sul lato della macchina e sposta la macchina come se fosse un pezzo di burro devo dirvi la verità non saprei dirvi se questo filmato è vero o falso ma se fosse vero ci sono solo due opzioni o quella ragazza ha una forza straordinaria oppure è la sorella di superman in questo ultimo video si può notare un uomo che lavora in ufficio fino a tarda notte l'uomo in questione si chiama john e per arrotondare lo stipendio decide di fare i doppi turni ma quella non è una sera come tante infatti dopo dieci minuti incominciano ad accadere cose veramente strane qualcosa o qualcuno fa scattare l'allarme di un ufficio l'uomo si agita un po' va a controllare ma non trova nulla di strano e quindi si siede di nuovo alla sua scrivania e si rimette al lavoro purtroppo quella non è l'unica cosa che succede quella sera infatti non passano nemmeno cinque minuti che i fenomeni strani ricominciano la porta di un ufficio si apre da sola nello stesso tempo viene accesa la luce di quell'ufficio l'uomo non capendo cosa stesse succedendo si alza dalla sedia e va a controllare e questo è ciò che è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza l'uomo non capendo cosa stesse succedendo l'uomo non capendo cosa stesse succedendo credo che john ci penserà due volte prima di fare il turno di sera da ora in poi questi sono alcuni dei tanti fenomeni strani e inspiegabili che succedono in tutto il mondo che siano veri e siano falsi l'ultima parola la lascio a voi ragazzi il video finisce qui e noi come al solito ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao